A seguito dei controlli fatti nella scuola di Cesa è venuto fuori che c'erano delle tracce di legionella, quindi non ho potuto fare a meno ovviamente di chiudere la scuola. È stata la sindaca di Marciano della Chiana, Maria De Palma, a firmare l'ordinanza che decreta la chiusura temporanea del plesso scolastico che si trova nella fazione di Cesa, perché da un controllo ordinario sulle tubature sono state rilevate tracce di legionella. Un'amministrazione, un sindaco devono prendere delle decisioni che sono prima di tutto delle decisioni che riguardano i bambini in questo caso e quindi la prima cosa è la salute, la salute viene prima di tutto. Non sono dei disagi ai genitori, ma essendo io stessa genitore credo che possano capire che la prima cosa da fare è mettere in sicurezza i ragazzi. La chiusura si è resa necessaria per la scuola dell'infanzia Nido Verde e per la scuola primaria Marconi fino al 4 ottobre compreso. Chiusure che consentiranno le operazioni di sanificazione. Ho acquisito tutte le informazioni necessarie per cercare di riaprire la scuola il prima possibile, quindi sto lavorando notte e giorno per cercare di trovare una soluzione e cercare di riaprire le due scuole, sia quella dell'infanzia che la scuola primaria, prima di venerdì. E' conto di poterlo fare con la collaborazione ovviamente della scuola, stiamo cercando soluzioni e conto di poterlo fare, di poter aprire il prima possibile. Nessun caso di legionellosi è stato riscontrato tra i bambini, anche gli altri plessi del comune saranno comunque sottoposti ad un controllo nei prossimi giorni. Un altro caso si è verificato allo stadio di Faella, nel comune di Castelfranco Pian di Scò. Dalle analisi è emerso che il batterio della legionella era presente e per questo il sindaco Michele Rossi ha emesso un'ordinanza di chiusura. Alla società sportiva il compito di mettere in atto le procedure per la sanificazione. Con i successivi campionamenti, se i valori di presenza del batterio saranno tornati nella norma, la struttura potrà riaprire.